Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e Vio 1 Variante. Possibili disagi in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretore, tra Prato Ovest e Ilvivio con la 1 per traffico verso Firenze. Fipili tra la Strassigna e Firenze Scandici ancora una volta verso il capoluogo. Se nemmeno oltre che sta piovendo su gran parte della Toscana, raccomandiamo di modellare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Con lo sguardo al traffico ferroviario per un guasto e gli impianti di circolazione nel nodo di Bologna, il treno 17801 Bologna Centrale e Prato Centrale sta viaggiando con 20 minuti di ritardo. Inoltre per consentire un controllo tecnico a bordo del treno, il treno 18391 392 La Spezia Firenze viaggia con 18 minuti di ritardo. Mova Residenza Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!